ciao a tutti buonasera prima di cominciare aspetterei magari un minuto due ok proprio per aspettare che qualcuno entri in questo seminario esperienziale diretto su focus 3.0 quindi prima di partire vuoi essere sicuro che ci siano dei partecipanti quindi aspettare un minuto ok potete anche scrivere un commento proprio per farmi sapere che ci siete ok e poi iniziamo buonasera maria luisa piacere aspettiamo che arriva anche qualcun altro e poi partiamo con questo seminario esperienziale perché ritengo che la puntualità sia anche molto importante ok perché la puntualità è un segno per onorare la serata per onorare ciò che diciamo l'operatore olistico e qui per condividere ok quindi poi ovviamente si può aspettare un minuto in più però è giusto che si parte comunque con la maggior con il maggior numero di persone possibile perché ciò che si tratterà stasera l'argomento che tratterò stasera è un argomento molto particolare dedicato che mi sta molto a cuore e non vuoi che qualcuno mancasse neanche un pezzettino dell'argomento di stasera ok quindi aspettiamo ancora un po e poi partiamo e mentre aspettiamo magari un minuto possiamo anche chiudere gli occhi e calarci in uno stato meditativo per il momento ok con un semplice ascolto del respiro proprio per sintonizzarci sull'energia di stasera ok direi che possiamo partire allora buonasera a tutti è un grande piacere essere qui su focus 3.0 ringrazio giorgio per questa opportunità ok e ringrazio ognuno di voi per la vostra partecipazione siete delle anime meravigliose lo sento della vostra energia sento proprio la meraviglia che c'è dentro ognuno di voi ed è un onore avervi qui stasera ok allora per chi non mi conosce ancora alcuni di voi mi conoscete già perché è già la terza volta che vengo qui sul focus 3.0 il mio nome è giancarlo zazzeri sono di madre lingua inglese quindi se faccio qualche strafalcione in italiano perdonatemi ok e niente sono counselor olistico sciamano e metafisico spesso sono in giro in diverse località del mondo per condividere le mie conoscenze per insegnare le mie conoscenze per dare il mio cuore al mondo e stasera sono qui per dare il mio cuore ad ognuno di voi ok allora di che cosa parleremo stasera di che cosa parleremo allora parleremo del mistero del channel ok del mistero del channel perché perché da ragazzino ho sempre avuto questo dono di essere costantemente in connessione con quello che possiamo definire le frequenze vibrazionali delle dimensioni più elevate del nostro universo che sono sequenze frequenze vibrazionali intelligenti che hanno la tendenza di interagire nel profondo del nostro inconscio per poi essere rielaborati nella nostra mente come forme archetipe intelligenti come un mezzo di comunicazione o per rendere facile la comunicazione tra noi che abbiamo un cervello che ragiona e che vede in termini tridimensionali con una intelligenza c'è in termini di frequenza ed energia di una dimensione più elevata ho avuto questo dono da piccolo e man mano che andava avanti negli anni sono sono riuscito comunque a diciamo avere la maestria su questo dono ok dopo diverse vicissitudini lungo la mia vita quello di canalizzare e anche di vedere in un certo senso in forma archetipe l'energia che si canalizza allora di che cosa si parla ok cosa trattiamo prima di tutto parliamo del channeling dei quattro tipi di channeling che si manifestano ok nelle persone che sono particolarmente aperti come canali e anche la modalità per raggiungere diciamo il livello del channeling ok perché poi non è che sia tutto rose e fiori ok tante persone dicono io so canalizzare ok ma che cosa sai esattamente canalizzare ok perché c'è la differenza tra canalizzare la mente diciamo condizionato da leggo e canalizzare veramente una frequenza intelligente di una dimensione più elevata che io ritengo personalmente l'estensione multidimensionale della nostra coscienza chiamato super coscienza o se superiore che è un punto d'incontro tra tutte le frequenze dimensionali ok però innanzitutto parliamo delle tipologie di channeling ok allora ci sono quattro tipologie di channeling c'è il channeling indiretto e di che cosa si tratta il channeling indiretto il channeling indiretto è molto simile diciamo alla facoltà psichica di fare delle letture psichiche di sentire l'energia circostante l'energia degli altri farne un'elaborazione inconscia per poi trarne un significato a livello mentale ok dove il cervello la mente conscia lavora in concomitanza con quello inconscio in maniera molto rapido ed accelerato un continuo scambio di energia e di informazioni ma con il channeling indiretto praticamente c'è l'energia archetipe che possiamo chiamare spirito guida angelo arcangelo essere galattico per dire no perché ci sono anche gli esseri di luce galattici che operano sul la sesta dimensione la quinta dimensione che ti stanno a fianco e ti suggeriscono quello da dire attraverso le sensazioni che la mente elabora in termini di parole comprensibili o se no il canalizzatore durante l'indiretto può vedere lo spirito guida a fianco al ricevente e lo spirito guida suggerisce al canalizzatore quello che va detto al ricevente ok e questo è un esempio di channeling indiretto invece poi c'è il channeling diretto ci sono due modi di channeling diretto attraverso la scrittura automatico ed è la prima fase in cui l'energia entitale della dimensione più elevata entra parzialmente nel twin concio la mente sul concio a questo punto diventa un portale aperto che permette una parte di questa energia intelligente di arrivare dove l'attività celebrale incomincia ad elaborare ed elaborare sotto chiave di metafora per poi darne un significato a livello vocale o a livello di scrittura automatico dove l'energia entitale prende i comandi vocali o muove la tua mano ed ecco che salta fuori la scritta automatico o un messaggio che viene indirizzato all'interessato che ha bisogno di sentire questo messaggio specifico secondo a un momento che sta passando nella propria vita per esempio ok e poi si va ad un altro livello di channeling ok che è l'interattivo diretto a livello quantico quando il canalizzatore ai canali ancora più aperti ottiene più esperienza ok perché poi è una fase ok passo dopo passo una fase graduale perché ovviamente il canalizzatore deve sintonizzarsi sempre di più deve abituarsi a livello inconscio di accogliere sempre di più questa energia ok perché allo stesso tempo avviene in questo processo una pulizia interiore al ricevente di questa energia ok che va trasmesso in maniera comprensibile abbiamo l'interattivo diretto a livello quantico dove l'entità entra nell'inconscio della persona ma la persona oltre che ad esprimere il messaggio o entrare in modalità di scritto automatico e emana e irradia l'energia di quest'essere l'energia guaritiva che riempie la stanza che cambia l'energia della stanza che in onda l'interessato la persona che riceve di una sensazione di puro pace amore benessere tranquillità un'energia diciamo armonizzante ok che entra nel cuore che entra direttamente nell'anima della persona ok e poi si va poi al livello interattivo diretto a livello fisico il channeling interattivo diretto fisico ok allora il diretto fisico significa che il channel non va necessariamente in uno stato profondo di trance perché a quel livello lì il canalizzatore ha i canali costantemente aperti ok è un costante flusso che è ben radicato nella sua essenza umana quindi un costante flusso che lo rende costantemente ispirato ispirato che è aperto a condividere le cose le informazioni che arrivano dalle altre dimensioni e ci possono essere tre modalità la modalità del walking in ok dove il walking in può succedere in tre modi o prima della nascita dove due anime fanno un comune accordo ok e diciamo che l'entità intelligente lo spirito o l'anima del mondo degli spiriti per esempio fa un comune accordo con l'anima del neonato e in un certo senso si fanno a scambi ok perché perché lì ci ci deve essere un motivo ben specifico ok forse il motivo è una missione molto importante per l'umanità per esempio ok se andiamo a vedere personaggi come martin uter king personaggi come nelson mandela o i personaggi più ispirati nella nello scenario della società che veramente sono in grado di smuovere le persone ad entrare nel cuore delle persone questo è un esempio di walking in ok sin dalla nascita poi c'è l'esempio di walking in sul punto di morte quando una persona va in coma e sul punto di morte la persona l'anima di quella persona non torna ma avviene lo scambio e durante quella fase arriva un altro spirito una guida un'entità che prende il posto di quella persona lì e ritorna dal coma e questo è un altro caso ok poi c'è il terzo caso che è il walking in parziale ok che è il caso del canalizzatore molto avanzato quando vediamo il canalizzatore molto avanzato il canalizzatore molto avanzato non ha bisogno di entrare in uno stato di rilassamento per calmare la mente prima di canalizzare entra in stato teta per poi andare più in profondità semplicemente come ho detto è un canale costantemente aperto quindi è costantemente ispirato esempio io sto facendo una conferenza ok non ho testi non mi sono preparato nulla non so cosa dire prima della conferenza ma all'improvviso arriva con il mio equip invisibile e all'improvviso c'è un membro dell'equip che entra dentro parzialmente mi sento ispirato sento la suggestione ed ecco che escono fuori le parole e assumo anche i gesti movimenti le connotazioni possono anche cambiare e poi vum esce fuori l'altro entra un altro diciamo entità invisibile del mio equip ed ecco che incomincio ad avere informazioni per esempio sulla fisica quantistica o quant'altro ok e questo è un altro esempio il terzo esempio ok quindi avete capito fino ad adesso mi avete sentito benissimo fino ad adesso ok potete dirmi di sì perché voglio essere sicuro che riusciate a sentirmi bene fino ad adesso ok questa è la cosa più importante perché perché dopo la breve dopo una breve chiacchierata farò anche un esempio rapido ok di canalizzazione spontaneo diretto a livello quantico dove voi potete sentire l'energia anche a casa vostra e in che modo allora ciò che dovete fare è semplicemente scrivere e state già scrivendo sì aspetta chi vorrebbe ricevere un messaggio da uno spirito guida ok da un'energia intelligente archetipe ok in modo tridimensionale basta che metti sì ok quando ve lo dico io vedo il vostro nome insieme al sì sento l'energia sento che tipologia di presenza c'è intorno a voi ok e incomincerò a sentire anche i suggerimenti ok vi va bene questo e poi dopo di che verso la fine della serata vi metterò tutti quanti in uno diciamo in uno stato di rilassamento ok chiuderete gli occhi andrete in stato meditativo perché canalizzerò anche un messaggio generale per ognuno di voi per tutti quanti ok dove potete sentire questo messaggio come una vostra meditazione personale ok e potete sentire coccolati da questa energia ok ma anche anche per farvi capire la differenza tra una tipologia di channeling che molti credono che sia channeling e un'altra tipologia di channeling dove è veramente sentita come una presenza molto gentile molto calmante che vi fa sentire a casa che vi fa sentire coccolati e sicuri ok allora prima di proseguire vorrei dirvi che per canalizzare occorre fare dei certi processi ok un esempio se una persona non ha mai lavorato su se stesso adeguatamente a livello profondo non ha mai fatto una meditazione ea tante cose irrisolte dentro di sé a livello emotiva livello di vite passate ovviamente non è pronto per aprirsi i canali in maniera così ampio per ricevere un goccio di quella energia lì dico un goccio perché si tratta di un'energia frequenziale molto elevata ok non pensate che quando uno canalizza tutta l'energia entità le arriva perché nessuno sarebbe mai in grado nessuno sulla terra sarebbe mai in grado di reggere un impatto energetico del genere il sistema nervoso andrebbe in corto circuito si finirebbe inceneriti sarebbe come avere il cuore di un di una stella nel salotto di casa proprio e non conviene ok quindi arrivano sempre con il contagocce e c'è una antica leggenda religiosa che lo racconta di una donna che si innamorò di un angelo si innamorò talmente tanto che insistete a quest'angelo che voleva vedere tutto la sua gloria voleva vedere sentire tutto la sua gloria l'angelo per l'amore disse va bene lo faccio per l'amore l'hai scelto tu l'hai voluto tu e questa donna fini incenerita in un istante è una leggenda però che ci fa capire quante siano potente queste frequenze ok quanto è potente la super coscienza che si estende verso quelle frequenze e come la super coscienza finge da filtro per fare in modo che queste frequenze ieri arrivino secondo al nostro grado di sopportazione e accettazione umana ok però vi spiego le varie fasi allora prima fase prima di canalizzare e dovete imparare veramente a meditare a calmare la mente in maniera tale da sentire il vostro respiro dove nel vostro respiro sentite voi stessi sentite il nostro corpo sentite le vostre cellule imparate a sentire il vostro dna quello che ha da dire il vostro dna la storia del vostro dna capire la vostra storia epigenetica e da lì incominciare a fare pulizia interno a livello inconscio di tutte le cose irrisolte le emozioni negative accumulate partendo da questa vita per poi scavare sempre più in profondità fino alle vite passate io lo ritengo un passaggio obbligatorio ragazzi ok ragazzi prima imparate ad ascoltare voi stessi conoscete il linguaggio del vostro corpo per poi conoscere le vostre emozioni sapere come maneggiare trasformare le vostre emozioni risolte negative in emozioni positive energia utile positive costruttivo ispirante per poi andare più in profondità verso le verso le vite passate dopo aver risolto le cose risolte di questa vita perché dovete portarvi ad una purezza interiore adeguata ok poi dopo di che incomincia il processo dell'elevazione della coscienza dove nel processo dell'elevazione della coscienza incominciate a conoscervi a livello psichico non si comincia a canalizzare un'entità elevata di una dimensione superiore prima di conoscere le vostre facoltà psichiche avete conosciuto voi stessi le vostre emozioni il vostro interiore incominciate ad elevare la coscienza in maniera adeguata per espanderlo per sentire l'energia circostante che è lo specchio di riflesso del vostro interiore incominciate a conoscere le vostre facoltà psichiche incominciate a conoscere la matrice energetica degli oggetti di tutto ciò che vi circonda incominciate a comprendere la natura dello ying e lo yang delle frequenze energetiche dell'invisibile che ci circonda perché a livello di energia frequenza la nostra esistenza è androgeno e questo significa imparare a capire il vero senso dell'accettazione totale del sé altrimenti è facile incontrare qualcuno che dice io so canalizzare ma cosa stai canalizzando se non hai conosciuto questi concetti prima che persona sei come sei messo come persona vediamo se riesci veramente a canalizzare ok perché vi spiego se non voi non attraversate questi passaggi che richiede tanto lavoro dedizione pazienza mai avere fretta capisci noi avere fretta vi tre cose possono accadere ok o diciamo quattro nel migliore dei casi non succede niente perché la tua mente talmente chiuso e nel razionale e chiuso nella paura che non succede niente non riesci neanche a rilassare la mente non riesci neanche a permettiti i primi passi necessari della meditazione quindi non succede niente ok questo è il miglior caso attenzione se una persona vorrebbe subito canalizzare perché ho incontrato delle persone che mi hanno detto vorrei subito canalizzare cosa aspetta ti prendo per la mano prima e impariamo a camminare secondo cosa può succedere diciamo che i canali si aprono bisogna capire che quando questa energia arriva quando l'energia di un'entità dimensionale superiore arriva è un'energia guaritiva potentissima prima arriva per guarire le tue cose inconce ma arriva in maniera molto diretto capisci non ti guarda in faccia capisci arriva in maniera molto diretto e quale può essere l'effetto è una luce rivelatrice è una luce più elevata e ti rivela in maniera diretta tutte le cose risolte le tue ombre che saltano fuori in maniera molto preponderante e anche incontrollabile ok in questo caso cosa succede il sistema nervoso e sovraccaricato da una fuoriuscita di energie emozionali represse di questa vita di vite passate va in contro circuito la mente è completamente fuori fase e succede o un attacco eptile epilettico con una modifica di corde vocali con la persona che urla e sbraita e dice ogni sorta di cosa che nel medioevo veniva classificato come attacco demoniaco ma in realtà parlando in termini di energia frequenze di scienze si tratta di un sovraccarico del sistema nervoso che non è in grado di gestire tutte questa fuoriuscita di energia emotiva in eccessa che va in contro circuito ok e che prende il sopravento dove poi ci vuole un'assistenza molto qualificato per gestire la situazione altrimenti è un casino è il modo migliore per gestire la situazione e stare calmo essere compassionevole e coccolare la situazione dare amore e prima o poi questa fase passerà ok altrimenti succede che il sistema nervoso va in contro circuito ma come una di un sistema di difesa inconscio la persona sviene e va parzialmente in stato comatoso poi si riprende e non si ricorda più niente o la terza fase è sempre un contro circuito del sistema nervoso ok dove la persona va in un parziale fase di schizofrenia dove saltano fuori un disturbo di personalità multiplo che riguarda casi irrisolte di vite passate quindi queste tre cose possono accadere però se accadono ci vuole comunque la conoscenza della nozione della persona che si trova davanti a una situazione del genere di saperlo gestire io l'ho visto in un workshop una volta che qualcuno ha deciso di organizzare un workshop di due giorni per far canalizzare le persone due giorni però ha pensato soltanto alla parte commerciale non ha pensato alle persone ed era aperto a tutti non era aperto a persone che hanno già fatto una certa ricerca e questo non andava bene ero lì e ho detto qui qualcosa di ingestibile succederà perché poi in quel workshop c'era del personale delle persone non qualificati e non preparati a gestire queste tre situazioni descritte e sono saltati fuori certamente questi tre casi persone che scappavano in questa condizione in mezzo alla strada e questi cosiddetti life coach che li correvano dietro che non sapevano una mazza cosa fare altri che svenivano e altri casi ancora allora quando si tratta di una persona che ha una salute cagionevole che comunque soffre già di epilepsia ha problemi di cuore e si trova in una situazione del genere un sovraccarico di energia qualcuno ci può rimettere anche le penne anche capisci quindi il channeling non è uno scherzo va fatto in sicurezza e va fatto con un certo percorso quindi non va mai affrontato come un gioco ecco quindi ecco un po di esperienza che vi sto raccontando in base a quello che ho visto ok quindi ecco perché è molto importante questi passaggi una volta che la coscienza si incomincia ad elevarsi ok nella frequenza più elevate maschile e femminile che io amo chiamare l'energia cristica l'energia da maria maddalena che è l'androgeno della supercoscienza l'energia cristica l'energia da maria maddalena che è il femminile sacro e il maschile sacro che si mantengono entrambi in equilibrio ok allora sei psichico riesci a sentire l'energia circostante riesci a maneggiare questa situazione senza il maneggere questa situazione circostanze che circostante dell'energia circostante che non ti sovraccarica ok perché sei nel tuo potere cristico e maddalenico sei neutrale sei un osservatore elabori ed entri in una fase di conoscenza più elevata delle cose poi dopo ecco che incomincia il channeling in diretto incominci ad andare dalla fase psichica dopo un po' di esperienza per aprire la tua parte inconscia come portale per ricevere visitatori ok dove incominci i tuoi primi passi come ambasciatori di luce ambasciatori di altri mondi di altri universi allora la cosa diventa un po' più interessante dove poi nel tempo dall'indiretto con un po' di pratica un po' di pratica vai nel diretto l'essere che arriva arriva incomincia a darti la sua energia incomincia a ripulirti ulteriormente a scavare sempre di più in profondità ma non succedono non succederà mai questi episodi traumatici perché hai già fatto un certo lavoro capisci e quindi diventi portavoce verbale e anche diventi anche scrittore automatico ok dove escono fuori delle filosofie meravigliose ok un esempio era quando scrivevo formule matematiche in passato dove poi era saltato fuori la schema di un'astronave che era in grado di superare la velocità della luce questo era nel passato e poi con un po' più di esperienza entri nella fase più elevata della purificazione ed espansione ed elevazione della coscienza dove poi trasmetti l'energia dell'essere l'energia guaritiva diventi poi proprio un portale trasmissiva di energia di pace e amore ok è meraviglioso perché quando la persona entra nella stanza sente subito l'energia che lo accoglie che lo coccola e ti dice cosa hai fatto in questa stanza sente anche il profumo che arriva dall'altra dimensione potrebbe essere un profumo di lilla, di rose capisci? è l'esperienza meravigliosa sia per il canalizzatore che per il ricevente e quando la persona canalizza sul serio il messaggio è sempre di una semplicità, di una purezza, di una gentilezza una voce suave non è una voce pam 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 ok? perché questo lo potrei definire più l'ego lo spirito di luce, l'essere di luce non vorrebbe mai convincere nessuno non vorrebbe mai impressionare nessuno non si esprime mai necessariamente con parole altisonanti di concetti da catedra universitaria quello è roba che impressiona soltanto la mente e acchiappa l'attenzione soltanto dell'ego ma le parole sono molto semplici gentili, dirette, cordiali ma arriva al cuore ok? e poi dopo si va diciamo con un po' di esperienza a livello interattivo diretto fisico ok? sto parlando con voi adesso l'informazione scorre sto usando la mia voce ma l'ispirazione è costante l'ispirazione è costante l'ispirazione è costante stai semplicemente parlando con la voce del cuore universale del cuore cosmico sei un portale che parla un portale che cammina e che porta luce e pace ovunque dove vai questo ovviamente è un certo livello ok? allora, tutto chiaro fin qui? ok? avete un'idea in una sentenza così breve di cosa sia il channeling adesso? tutto chiaro? perfetto un attimo solo che devo scorrere giù per vedere sì, Laura Chandra sì, perfetto allora continuiamo adesso perché non entriamo in una modalità pratica ok? dovete avere non dovete avere aspettative per favore mettete da parte l'aspettativa dell'ego aprite i vostri cuori adesso ok? immaginate i vostri cuori come un bellissimo fiori di lotto con i pettali fatti dai tuoi colori preferiti i colori della tua anima che si aprono per ricevere adesso ok? ricevere ciò che va ricevuto senza aspettative la tua anima sa già ciò che deve ricevere metti da parte la mente apri il cuore per ricevere un dono adesso ok? probabilmente la mente non comprende il messaggio adesso ma è naturale può capitare ma aprite ricevete permettete al cuore di ricevere a depositare nell'inconscio e con il tempo la mente comprenderà in termini di saggezza ok? quindi adesso partiamo adesso ok? avete scritto sì fino ad adesso quindi cambierò la parola da sì a io ok? quindi chi vorrebbe ricevere un messaggio da uno spirito guida scrivi io lo farò fino a un certo punto perché il tempo stringe e poi canalizzare un messaggio generale per ognuno di voi ok? quindi chi vorrebbe ricevere un messaggio non scrivi sì né prontissima bisogna essere chiari perché se no vado in confusione io ok partiamo con Roberta ok? la prima cosa che mi viene in mente è l'energia archetipe di una frequenza verde smeraldo Raffaele curare il cuore guarda dentro il tuo cuore senti sui battiti dedicati quel momento di silenzio per sentire i battiti armoniosi del cuore e l'armonia è il canto dell'universo ascolta questo canto ascolta questa armonia entra nel tuo ancestrale per essere autentico a te stesso senza la paura del giudizio senza il bisogno di essere dura con te stesso questo è la paura del giudizio la collettività di Raffaele sostiene il tuo cuore ti mando un fuoco verde intorno al tuo cuore senti i battiti di gioia nel tuo cuore esprimi questa gioia nella tua famiglia ai tuoi amici perché sei un portavoce di saggezza e gioia una luce tanto 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 voluto in questi tempi in questa società oscurato dalla paura tu non hai paura e questo tu lo sai si ne fiero e apri il tuo cuore espogniti senza paura il tuo tempo per questo è arrivato e adesso vediamo mamma mia quanti ok vado su aiuto Giordi Michele Cutler io l'equilibrio due energie al tuo fianco che ti parlano ad entrambi gli emisferi del cervello per darti un senso di equilibrio e pace interiore hai la presenza cristica la presenza della mia maddalena ma al di là di quello un avo antico che porta la croce rossa templare io ti dono la spada della pace impiantato nella terra una terra fertile che è nel tuo cuore dove la spada della pace che è tu che fai la pace con il passato si trasforma magicamente nella quercia nella quercia della vita con fogli rigorosi dove su questi fogli rigorosi ci sono le immagini degli antenati che ti sorridono che pregano per te che ti incoraggiano di camminare e di essere fiero è chiaro sempre nelle tue decisioni nelle tue idee una grande mente creativa una grande mente in grado di ispirare altri un punto di riferimento per i giovani non ti lasciare scoraggiare questa spada è la spada di un amo ma è anche la spada di michele che ti accompagna anima guerriera ok e adesso facciamo in tempo per farne altri due o tre amabile mara casa grande amabile mara casa grande ma che nome ok l'energia dell'alchimista l'energia della collettività di razia una luce arcobaleno due ali che ti avvolgono come una luce arcobaleno sentiti protetta figlia mia spolvere l'antico libro dell'alchimia del tuo passato voci antiche si riecheggiano nelle profondità dell'inconscio voci antiche che hai sempre rispinto nel tempo attraverso il timore il dubbio si fiduciose del tuo cammino dai ascolto dai ascolto a queste voci forgi le tue orecchie al tuo cuore che è una porta spalancata verso i recessi più profondi del tuo inconscio per incontrare la tua natura di alchimista sciamana donna di medicina la collettività di razza che aiuta gli alchimisti i filosofi uomini e donne di medicina e con te il vento del nord ti chiama cerca nel significato e comprenderai te stesso ok e adesso il tempo di altri due ok è da parecchio che non faccio più questo allora vediamo vado i nomi continuano a scorrere quindi vado sul primo nome che vedo Giovanna Spina io caro Giovanna figlio della luce figlio dell'avvenire sin dalla tua infanzia hai sempre sentito il richiamo di altri familiari altre presenze che tu ritenevi la tua famiglia nel tuo inconscio c'è il simbolo della tua famiglia un triangolo nel triangolo chiamato tetraedro sotto l'energia di Michele la tua famiglia stellare guidato e il raggio blu tu non sei il sogno sei costantemente accarezzato dalla nostra presenza ma non bramare per casa tua impari a vedere la terra come casa tua radicati perché così ne trae le tue facoltà per essere portatrice e ambacciatrice di un messaggio di pace ma si impace con te stesso nella tua matrice esistenziale umana è stata la tua scelta si non è responsabile ama questa scelta per vedere la tua vita con occhi compassionevoli per imparare la pazienza che con il tempo diventa la saggezza delle stelle la saggezza delle pleadi wow ok allora facciamo un ultimo e poi si farà la meditazione collettiva ok la meditazione canalizzata che è più un messaggio canalizzato collettivo allora ci vedo qua Laura Chandra ok Laura Chandra ok incomincio a sentire il canto di una tribù antica un canto siux dai spiriti ancestrali un anziano un vecchio sciamano siux al tuo fianco che messaggio ha da portarti continua a cantare cantare una melodia una ninna nanna per farti sentire amata fatti sentire amata hai bisogno di ricevere amore sei amata non temere non sei da solo non sei mai stato abbandonato la tua famiglia ancestrale è sempre stato con te il tuo papà spirituale è con te e canta per te nel tuo cuore impara a suonare il tamburo impara a cantare con il tamburo per risentirti connesso con la tua essenza ancestrale per sentirti amato dalla vita per comprendere l'amore verso te stesso per capire che al di là di chi ti ha messo sulla terra tu sei figlia del cielo e della terra ok ed ecco un esempio di speed channeling diciamo diretto a livello quantico per chi ha ricevuto il messaggio come vi sentite tutto a posto ok molto bene adesso ritero opportuno adesso di andare verso la fine della serata per con un messaggio canalizzato per tutti ok che vi potete ascoltare come una meditazione apprendo il vostro cuore per riceverlo come un dono prezioso come ho detto prima ok prima vi guiderò in uno stato di rilassamento rapido vi connetterete con il cuore aprirete il cuore poi io andrò in uno stato di trance e chi arriverà arriverà ok quale collettività arriverà arriverà ok quindi siete pronti siete tutti pronti scrivete sì e si fa ok mi avvicinerò il computer perché poi magari può darsi la voce si abbasserà la voce può cambiare e incominciamo con la fase di rilassamento permettevi in grado di accogliere l'importanza e la sacralità di questo momento ok quindi non continuate a scrivere io 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 adesso perché adesso si va verso la parte più collettiva per tutti allora tutto quello che dovete fare o tutto quello che devi fare perché mi rivolgo ad ognuno di voi come singolare perché è una vostra esperienza personale è una tua esperienza personale da conservare da onorare nel vostro cuore non devi fare altro che mettiti in una posizione comoda e rilassante sulla sedia o poi anche sdraiarti o poi mettiti anche nella posizione del fior di lotta se voglio ok se sei comodo così la cosa più importante è che il tuo corpo è rilassato che lo senti rilassato impari a sentire il tuo corpo ok tieni gli occhi ancora aperti fai un profondo ispirazione trattieni doppio un istante uno due tre quattro cinque l'unno dello spirito espira chiudi gli occhi e rilassati adesso rilassati immaginati in un luogo meraviglioso il tuo luogo preferito della tua infanzia e della natura e focalizza la tua attenzione verso il tuo cuore che magicamente lo vedi come un bellissimo fiore di lotto con i tuoi pettali dai colori preferiti i colori dell'anima che si espandono in tutto in tutta la tua aura incomincia a vedere questo fiore che si schiude gentilmente che si schiude per aprirsi verso il cielo verso l'universo con migliaia di stelle galassie universi ed oltre per incominciare già a sentire l'energia che scende dalle stelle dalle galassie dall'universo ed oltre come una fragranza come una presenza di pace di puro amore una presenza tranquillizzante che entra nel tuo cuore attraverso il chakra corvo e respira in modo calmo e gentile e rilassati in questo stato meraviglioso e magico di apertura del cuore verso il multiverso nell'attesa onorando questo momento sacro mentre adesso io vado in uno stato di rilassamento e trance caro anime della terra gioite per questo momento osservate i vostri passi per rendervi conto che non state più camminando nel passato ma i vostri passi sono passi fioriti passi di pura fragranza di amore e pace fragranza delle stelle dell'universo fragranza della creazione della vita della manifestazione è tempo di camminare in questa consapevolezza sulla terra per comprendere che ogni passo lascia dei semi semi di luce semi di meraviglia di magia di amore che diventano fiori fiori che sprigionano la luce della vostra anima elevata evoluto siete già evoluti ma non mi rendete conto siete troppo focalizzati su ciò che sentite intorno a voi che non è altro che il richeggiarsi di un vecchio mondo che lentamente scomparirà anche dinanzi ai vostri occhi dove con i vostri occhi finalmente vedrete veramente sentirete e comprenderete che state veramente camminando adesso come anime più mature e più sagge in questo tempo al di là del vecchio tempo un nuovo concetto di tempo sconosciuto da mente umana la mente si adatta ad una visione vibrazionale più elevata si entra come pioniere in un nuovo mistero non avete paura questo mistero è solo luce solo luce solo l'amore che vi insegna ad essere veritieri a voi stessi essere veritieri a voi stessi significa essere al di là delle vecchie illusioni vecchie credenze un nuovo fuoco arde l'anima si rigenera nasce la fenice dal cuore di ognuno di voi estendendo le ali verso le stelle la terra è il vostro nido e le stelle vi attendono e come collettività siamo qui ad osservare ad attendervi come figli maturi per abbracciarvi è tempo dell'ascolto per comprendere il vero senso del camminare e adesso rimanete un istante in silenzio sentendo il vostro respiro così gentile percependo la gentilezza dell'energia intorno a voi questa pace questa tranquillità che accarezza il vostro cuore e la vostra mente che vi apre verso una nuova visione di voi stessi rimanete per un istante in silenzio per sentirvi coccolati da questo momento con senso di gratitudine ed eccoci qua ed eccoci qua ok allora bisogna capire che esistono sì diverse dimensioni c'è la nostra dimensione che noi interpretiamo a livello visivo a livello di senso tattile come un mondo tridimensionale che dietro il 3D in realtà è fatto di quattro forze dimensionali a livello di energia e frequenza luce suono spazio e tempo sono ovviamente forze frequenziali quantiche intangibili ma per renderli tangibili noi interpretiamo una realtà fatta di luce suono spazio e tempo in un'esperienza tridimensionale che è la fondamenta della visione olografica del nostro universo ok perché il nostro universo in termini di visione 3D è un ologramma di luce condensata in materia poi andiamo verso lo sconosciuto al di là dei nostri sensi umani la quinta e la sesta dimensione la quinta è un passaggio verso la sesta e stiamo iniziando a sbirciare fai i primi passi nella quinta ok che è un passaggio verso la sesta che è l'era cristallino ok dove diciamo abitano gli esseri galattici ok i pleiadiani gli arcturiani i siriani e tante altre razze galattici benevoli che vogliono aiutare l'umanità ciò che è stato canalizzato stasera è una collettività della sesta dimensione galattica che ho sentito erano pleiadiani ok e poi dalla sesta si va verso la settima all'ottavo dimensione e entriamo nel regno degli angeli gli arcangeli ok e poi dall'ottavo si va verso il nono il decimo dove dagli arcangeli si va nel regno dei serafini e poi dal dodice dall'undicesimo al dodicesimo stiamo parlando del regno metatronico ok che viene definito come la collettività arcangelica di metatron ok nel regno metatronico che viene definito anche nella Torah come la corona dell'onipotente l'energia onipotente della conoscenza e poi dopo si va nella fonte suprema che io amo chiamare la singolarità divina che è la supercoscienza che per me ha tutto diciamo ok dentro fuori intorno il sé infinito che molti chiamano alamani tu dio dea che è il nostro sé superiore ok allora niente a questo punto vi saluto e sto pensando già il prossimo argomento ok il prossimo argomento se Giorgio è d'accordo sarà quello dell'evoluzione genetica verso l'era cristallo per capire in che direzione stiamo incominciando ad andare ok da una specie planetario ad interplanetario interstellare intergalattico ok quindi si parlerà dei vari fasi evolutivi le tipologie di civiltà planetarie interplanetarie stelare intergalattiche che ci dà una idea del nostro futuro meraviglioso che ci attende al di là di tutte le cosiddette porcherie che sentiamo in giro ok perché l'essere umano è un essere meraviglioso la razza umana è pura magia è meraviglia non bisogna mai perderne fiducia bisogna essere privilegiati onorati ad essere questi bozzoli che stanno per dare la nascita a un nuovo essere il nostro se futuro che è già dietro all'angolo ok quindi bisogna capire queste cose allora niente per stasera vi saluto allora e vi ringrazio veramente di cuore per la vostra partecipazione vi sento veramente di cuore vi sento ognuno di voi veramente ed è molto rincuorante perché onestamente prima di questa serata era un po' nervoso veramente la mia parte umana perché non spesso condivido queste cose perché non spesso incontro delle persone che sono veramente pronte a queste cose neanche nell'ambito olistico ok però sentivo che era il momento giusto per condividere questo livello di cose ok è giusto che sia così ok e niente buona buonanotte a tutti io dico buon appetito a me perché non ho ancora mangiato perché quando faccio queste cose preferisco rimanere a digiuno ok e adesso è arrivato il momento di assecondare la mia parte umana la parte dell'ego che dice che ha fame ok quindi buonanotte sono i due a tutti e questa energia che è stato canalizzato vi accompagnerà durante la notte vi coccolerà e vi darà il benvenuto domani mattina a un nuovo mondo a un nuovo sé ok ciao ciao ciao